si parte al caravaggio intervista romania 2k 17 quasi 2k 18 si parte ciao te russi eccoci fa fresco ma mauri fa fresco ma sopportabile però c'è la dieta che è infingata questa si insinua infatti non mi premulo e adesso tiro fuori adesso istriamo effettivamente non è affidissimo buonasera ho dormito io tranquillo ti ho letto c'è stato un po' di rimbalzo in fase di attraggio eh un po' e i suoi messi umani hanno lavorato un po' per l'artiglia non abbiamo soldi che è successo siamo senza soldi non c'è modo di prelevare qua un'ora dopo un'ora dopo un'ora dopo un'ora dopo ho fatto col tassista che ci ha fatto lo sconto di 3 lei 80 comunque dopo una partenza direi ho aspettato un'ora fuori dall'hotel e dall'aeroporto ma il vero problema era sia l'interazione lingua e poi in una circostanza un po' strana e non avevamo i soldi quindi avevamo soldi 25 lei è stato un viaggio però poi ci ha fatto uno sconto studenti diciamo si dai diciamo che gli aveva detto era 27 ci ha fatto fare 25 in amicizia buonanotte buonanuttu buonanuttu buonunuttu e niente andiamo a fare colazione secondo me sarà buona sarà una qualità incredibile l'ultima volta che abbiamo filmato una colazione in hotel era addirittura in Svezia me lo ricordo ah quella si mi ricordo che Mario aveva bruciato un tosse ed è stato mezz'ora con un totellino a sgraffignare via la rete speriamo che sia buona la colazione di Cristian io ho un sacco fame ma non c'è niente da sperare i fatti sono fatti ma perché com'è questo odore che si sente? eh sì non so cosa sia ma tipo e perché ci siamo solo noi? ci sono due persone perché adattamente noi siamo in 70 e noi per entrare fanno un test i figli altri non l'hanno superato e quindi siamo super infezione allora abbiamo del burro che sembra non so burro un po' burroso un po' burroso un po' burro che fa bene che dà energia c'è del formacino della marmellatina e questo salamino è un po' burro e invece hai puntato su un po' burro un po' burro che era caratteristica un po' burro che ti ha fatto? sono ne otto dobbiamo andare ci siamo e questo è quanto? questa è la nostra camera e che camera? arriva fornite di tre letti singoli un telefono una televisione queste sono quelle che hanno il golea del nord e facciamo notare che è a tema olanda 3 stelle però nonostante l'hotel sia 4 non sembrerebbe voi dite fate dei viaggi da barboli no no 4 stelle poi il bagno com'è? spazioso con una carta igienica dubbia un po' rumidina e quindi volto alla stanza 10 9 e mezzo perché la coperta 10 non si dà mai 9 e mezzo era un po' sforza ma questi bicchieri ce li possiamo fare e pensione a Uber? addio o un arrivederci? un arrivederci sicuramente eccoci qua nel mondo nella vita reale nella vita quotidiana di Oradea i giovani vanno a scuola le macchie fanno rumore in crisi cioè è una cosa molesto in Italia eh facciamolo vedere l'ha un brenedetto sapete una cosa che non abbiamo ancora ma i tombini come sono? i tombini livellati e guardalo lì com'è livellato quello lo vediamo prelevato e ora? è un po' particolare poi ti senti un po' in pericolo no in pericolo no però è un po' osservato ma giusto così giusto così ah beh magari ci hanno riconosciuti dici sicuramente e qua adesso ci fidiamo in stazione che lì la sicurezza prima di tutto abbiamo visto un tizio col manganello che ci proteggerà da tutto due sinonimi che stanno per certezze e solidità c'è una presenza così fuori luogo in questo posto che è indescrivibile quanto siamo fuori luogo nel genere per queste strade ci piace però e a noi ci piace perché dove c'è il turismo non c'è il cuore siamo a binario 2 noi direzione Iasi il confronto sulle stazioni è molto bella ho visto quella di fiume in Croazia ed è questa decisamente tenuta meglio non c'è il cuore Siamo arrivati, com'è? Diversa da Oradea? Quasi una metropoli, c'è pure il caro. Beh, il testo non ci ha fatto mai. Buonasera. Tutto un po' funziona, tutto in amicizia. Un po' a grida. Le saline di Turda ci aspettiamo tanto. Sì, ne vale la pena. Potevamo noleggiare una macchina. Eccoci qui. È arrivato il Bulma. 10, 10. Bulma che ci porterà le saline. Sul bus. Sul bus. È stata complessa. Ce l'abbiamo fatta. Diciamo che non sono molto chiari su come si fa in generale qualsiasi cosa. via. È una situazione particolare, dai. Risolta ma è sempre tutto difficile. Lo stesso spostamento diventa una cosa complicatissima. Un'avventura, un'avventura. Cosa è successo? Cosa è successo? Siamo arrivati alle saline alla fine dopo una fatica. Saline di Turda. Speriamo siano belle perché sono costate fatiche e denaro. Neanche tanto denaro. Sembra tanto perché... Partono un sacco di banconote però il prezzo rimane caldiato. La forza monetaria dell'euro. Siamo andati alla vecchia entrata con peripezie, pulman di linea e lunghe camminate ma chiuso. Da tre giorni non si passa. C'era un cantiere. E poi? Gli hanno preso un taxi e siamo andati all'altro ingresso. Non lo vedo. Si pare che... Siamo dentro. Siamo dentro. Dentro siamo. Adesso le immagini parleranno per noi. Parleranno per noi. Partiamo. Siamo già tutto bello bagnato. Marco demonio. Votatoio. Merda. Da romanino. Ah vedo la... La vuota panorale. Si. Incredibile. Bellissimo. Approved. Una ficcata. Dopo un momento di disperazione. No, io non ne ho disperato. Per le strade di Turda. Io ho visto quel ragazzo che era un po' abbattuto. Era demoralizzato. Aveva la stessa faccia di quella mattina che siamo arrivati a Bangkok. La stessa eh. Di quando non trovavamo i biglietti del treno. Invece no. Abbiamo preso questo taxi. L'abbiamo sbagliata. Ecco. È arrivato l'ascensore. Ma questo qua è passato al signor Pisone. Hai baura? Si. No dai. No dai. No dai. Va giù piano. La pulizia. Però queste luci qua ci stanno un sacco. Ma è che ci sta la discesa con l'ascensore. C'è anche il bigliato eh. Luca è felice. Felicissimo. Finalmente. O no. Qualcosa di bello. Un grande risposto. Bellissimo. Un minuto più bello. Un minuto più bello. Un minuto più bello. Che porta a diciamo un piccolo isolotto. Un minuto più bello. 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 Siamo arrivati nella combricola di Marcioni. Sarebbe bello fermarsi qua e fare un discorso alla Nazione. Come sono state le saline? Molto belle. Spettacolari. Diego ha detto uno dei posti più belli dove sia mai stato. Ripetilo. Molto bello. Una delle cose più belle cose, sicuramente, dove sia mai stato. Sarebbe turda? Ce l'ha. Chi è? Avanti. Camera di più nella poca. Piccola, simpatica, comoda. Tre letti. Due singoli. La pensione è aperto, però non si può sempre avere turda. È un matrimoniale. Stanza semplice. Angolo cottura. E bagno. Finalmente un po' di relax. Giornata faticosa. Faticosa, Diego. Molto faticosa. Molto. I disservizi sono stati ampli e gravi. Amplissimi. Me li abbiamo superati tutti. Con un po' di leggianza. Uno, due. E l'episodio della casa? Abbiamo trovato... Abbiamo trovato la casa. E poi è uscito il tizio, ne pensavamo fosse... Un abitante. E ci ha sentito che parliamo e fa... Ah, Casaria. Booking. Booking. Venite con me. Ed era... Cinque minuti dopo eravamo prestati a dormire. No. Eravamo a Linton. Eravamo a Linton. Non ci fanno fare il check-in. Siamo stati un po' sfigati. E ora. Quindi ci ha portato dentro. Abbiamo sbrigato le formalità a Ducanelli. Si. E niente. Vado a me come... Pronto per affrontare il gelo. Pronto per affrontare questo gelo? Che in realtà si sta bene, beh. Non è per così male. Eccoci qui. Stiamo cercando un posto per cenare. L'unico passo della giornata. Questa giornata... E... E questo come si chiama questo posto? Il soviet. Il soviet. bello? buonasera, si direi che è molto bello finita? finita, molto bene apprezzata tanto, tanto in un ristorante quasi chic quasi chic che comunque costava poco abbiamo speso... c'è il mio sidekick che è al telefono quindi devo fare tutto io adesso e vabbè abbiamo speso un 8 euro a testa più o meno meno anche chi più chi meno ma cifra che esergerà intorno a questa e vabbè molto 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 meno ah, interessante buona cena un giro interessante a... qua poi c'è una polizia che sta attento se guarda adesso che non spara fuori e poi... niente e ora siamo molto carichi per simi sohara e anche per il viaggio in treno quattro ore... quattro ore... è stata un'esperienza interessante l'Internet... no... novità l'Internet... ieri non abbiamo detto la buonanotte non siamo dimenticati quindi ci sarà il buongiorno buongiorno buongiornissimo stiamo preparando il tè un po' dell'alto un po' dell'alto eccoci qui fredda la mattina la mattina... colpisce duro un po' dell'alto però ci può stare stiamo andando in stazione per Sighi Sohara Sighi Sohara io l'ho detto che... quasi come le saline cioè deve esserci il vampiro dietro ogni angolo le saline sono difficili da battere e quindi niente ora 9.30 9.30 9.30 treno per Sighi Sohara Sighi Sohara 61, 62, 63, 68 situazione positiva siamo sul treno oltre il positivo però abbiamo scoperto che i nostri posti di diritto sono quelli con il tavolino quindi ci scattano 4 ore di scale e serpenti di doro all'esploratrice e partirà un torneo che cosvolgerà diciamo la stessa classe sociale ah anche cioè dopo 4 ore ti stanchi no ma anche dopo 10 minuti però è bello lo spirito comunque approfondiamo questo viaggio siamo sempre a Colucina Poca il tavolino solo vetri sporchi si come sempre in dotazione ah era 68 arrivi al 56 con me ah era 56 con me no alla punta è il 69 si si ok Mauri sembra un po' i pozzo leggiamo adesso abbiamo ci siamo divertiti giocando con nome cose animali città adesso ora ho momento di leggere e se ci fosse meno sporco si vedrà ma veramente squalzate ci sono niente siamo in mezzo a qua c'è tipo una non lo so sembra una fabbrica mezza abbandonata ci sono facendo un po' di ponti in questa zona siamo appena passati dalle steppe russe e ci sono panorami molto belli quindi ci siamo beccati con me abbiamo già detto questo posto molto comodo e è lungo adesso però abbiamo il vetro sporco non possiamo dirvi pronto per silisoare pronto per silisoare molto pronto ho visto più degrado questo sottopassaggio ehi ragazzi volete dallo spallo? ecco se prima eravamo negli anni 70 qua siamo negli anni 50 oh sono entrati in... cos'è questo? dei ruzzi dove ci stai portando? è colpa tua ehm questo è la tua ecco 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 è bello ecco 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 dove siamo? casa leggenda casa leggenda la più attesa era decisamente decisamente, ci ha accolto questo ometto tutto simpatico, di nome Cristian, bello l'uomo, ne ho pensato, parlavo un inglese quasi decente, ci ha fatto vedere le features di questa casa, e niente, adesso andiamo ad esplorare questo borgo antico, medievale, bello, come piace a noi. Nu è la mia, baby, c'è la mia, c'è la mia, c'è la mia, 친구 これ, Abbiamo mangiato, come? Abbastanza bene, non come ieri, abbastanza bene però. Decentemente, benitosamente bene. C'è che abbiamo speso a testa, più o meno. 7 euro. Vabbè, per il prezzo comunque è sempre. Io 10, ma mi sono fatto anche l'azzurro. Il problema è che non è che dicono quello con l'antipasto, finisce l'antipasto e poi gli portiamo il piatto agli altri. Loro preparano tutto, portano l'antipasto e lasciano raffreddare il resto e poi se lo portano a freddo. Voi sti faini che mi avete messo fretta a mangiare la zuppa? Sì, hai ragione, tanto è arrivata freddo uguale. Ho la lingua. Mi sono ustionato. La zuppa la cucciamo dentro tanto. E domani la prendo ancora. La zuppa ci vuole perché scalda l'anima. E niente, ora, non lo so, o giriamo un po' qua fuori. O andiamo al cimitero di notte. Andiamo al cimitero di notte. Se andiamo al cimitero di notte avrete un migliore di cimitero. Così giriamo neri. E niente, siamo all'interno del cimitero di Sighisoara con la luce negli occhi. Anche da sopra. Si vede bene. E' tutto molto inquietante. Ma in realtà era quasi più inquietante pomeriggio perché c'erano tutti i forbacchi. Eh, perché adesso non si vede niente in effetti. Però insomma, un po' di paura da fare. Presidente, niente da dire. No, in una situazione... No, capovolgente. Divertente. Finché non succede che... WAAA! Ah, vissimi. Eh, vabbè, vabbè. Almeno ci seppelliscono direttamente. Tanto le ho viste due tombe prima che possono essere occupate, no? Poi se diventi un vampiro ti trovi la casa se occupi la tomba, no? Scusami, eh. Siamo un po' di finino lì, a di finino davanti. Ah, che bello. Dell'altro. Buonasera. Stiamo lavando le tazzine che abbiamo usato per bere un tè serale. Con questi cioccolatini fantastici che ci ha offerto Cristian. Saluto finale. Saluto finale e buonanotte. Sì, beh, perché... Non lo so, è rumeno, eh. Andiamo a cercarlo. Sì, diciamo domani, è rumeno, dai. Day 4. Vabbè. Dove siamo? Sì, diciamo. Stiamo andando alla stazione. La temperatura com'è? Simpatica, dai. Rigida. Rigidissima. A parte che ci siamo da una stanta grado. Senestra, oltre a grado. E niente, siamo in stazione per andare a Braso. Siamo le sette di mattina. Sì, sì. E niente, forse è un altro simpatico ponticello che ci porterà alla stazione. Sì, sì. 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 Sette rete, sì. Sette rete, sì. E alle 49 abbiamo. Lì è fatto. Tappuccino locale. Fatto? Fatto. Con cosa? Con la polverina. E acqua calda. Con qualcosa. E... piccolini. A presto A presto A presto A presto Eccoci a Brazo Città della scritta Queste luci Brazo stiamo andando a prendere il bus E così pare Sì, però per andare a Tampa Hill Ah, ma però Che cos'è? Tampa Hill È la collina, si chiama Tampa Hill Un po' di chiara origine californiana Dove hanno eretto la scritta Brazo Un po' di stile Hollywood Quindi è proprio tutto un richiamo alla California È come se fossimo Hollywood O forse la California di Lesmo anche può darsi Sì Il vero? Beh, è vero un parolone Quello che si spacciano per vero Nici o brunze nu e amare Nici o brunze nu e amare L'autobus Per brand Pronti Non è stato facile Uno dei posti più loschi Quasi come la stazione di Chionfong No, se ne dice un fong era bella Quindi? Tra mezz'oretta stiamo là Speriamo Speriamo Noi ci crediamo forte Col cuore Se credo più degli occhi forte forte Vediamo anche prima Speriamo 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 Mamma, dore di mamma Te apoi nea in occhio felio Ciò imbarța la occhio Mamma, dore di mamma Tutteristico Vabbè, però bello da fuori Sì, sì, dentro un po' Un po' così, come te lo aspetti Tutansissime Durma e dunque Castello di Bran Bello, ma dentro è proprio una turistata Cioè, molto bello dentro Ha degli squarci non indifferenti Però c'è troppa gente Fai un po' di abbezzo angelo Muovi quelle mani Fai un po' di abbezzo angelo Un po' dell'utente Cioè, bello da qua Bello in alcuni punti Ma come c'è dentro Sono lo stanzamente Letto Letto Armi Tavolone Finte Hanno anche panchine nei camini Però qua Eh sì, dovete saperla questa cosa Quando venite E niente E questo è quanto Questo è un po' di abbezzo Chiторos E piper un capitolo Siamo a Brasov, sotto la grande scritta illuminata e stiamo andando a mangiare. Un posto pare buono, non siamo riusciti a prenotare, però sembrava... no. Ma siamo andati da McDonald's? No, siamo andati da McDonald's, che è quello vintage anni 2000. Logo vecchio, logo vecchio, bancone vecchio, si spera anche il menù vecchio, perché c'era più sostanza in tempo. E qua ci sono delle belle luminarie, ma in tutta Romania ci tengo notato queste cose delle luminarie. E alle bandiere. Eh, le bandiere sì, sono molto patriottici, però questa cosa qua delle piazze, delle vie illuminate... Ti senti un bip, perché tutti ti guardano? Ma tutti ci guardano, cioè... Vabbè, ma in più che vloghi... Eh, mi sento un po' un bip, effettivamente, non so che dire. Eccoci qui! Con il rotolozzo. Guardiamo... Un curtos. Quanto costa? 12 lei, però... Perché ci spami un paio di generazioni. Pensavamo di prenderne una testa, ma... Cioè, è una canna fumaria. Sì, no, effettivamente... Possiamo farlo come cena. Guardate, però non mette tanto a fuoco. Sì, ha dei problemi. La Terukam è un po'... Eh... Oh, ok, adesso sì, ci siamo, ci siamo. Online di nuovo. Ma l'hai lavata con la pasta al suolo? Ci dica. Proviamo in diretta. Vada, vada, ci dica. Taste test. Ah, sì. No, si può fare. Ah, si sta... spaldando. Eh, è gustoso, eh. E' arrivato il momento di darvi la buonanotte. O meglio, come si dice in Romania, NUAPTE BUNA! TOMORROW Nevita. Dove andiamo? Alla scritta. Alla scritta di braso. A fare una bella colazione tipica. Ricca. Bella, simpatica. Sex. Bellissimo. E poi alla scritta. con... apunicolati. Si procede. Si procede... Sotto la neve. Ci siamo messi delle cose più pesanti perché siamo usciti. Abbiamo fatto un po' tipo il nonno Simpson che siamo usciti e siamo tranquilli. Perché c'era troppo freddo, ora ce li proviamo. Nel caso... Devo sempre aggiungere altri strati e strati fino a che... non riusciremo a scontare questo gelido ambiente. ambiente. non ho capito bene come era il luogo. Poi abbiamo ordinato la cioccolata, il clima si è sciolto simpaticamente, conversazioni belle... Però c'è stata una domanda che non abbiamo compreso riguardo la nostra lingua. La barrista... Elisa è rialzata la stricella dell'imbarazzo, era scesa e è subito rischizzata... Ci ha chiesto come mai non parlavamo italiano... però di fatto noi stiamo parlando italiano da mezz'ora tra di noi. Quindi boh... Tendenzialmente essendo italiani parliamo italiano. Ogni tanto. E quindi... Poi però... si è risolto tutto in amicizia. E niente... Ora stiamo andando alla funicolare... e... e si sale. Tutta notizia. Non si va alla scritta. Perché? Non funziona... nelle cabine. Vale così, quantomeno. Sentiamo dei rumori un po' stagni, eh? Però nulla che dica che sta a funzione. Anche perché c'è la scritta che è in manutenzione. quindi... è in restauro. E niente... Torniamo in centro. Qua nella neve. Torneremo a Brazio per avviare la telecabina. Andiamo qua nella in fondo a piedi. No, grazie. Com'è la situazione? Complessa. Che cosa facciamo adesso? Chiesa nera. Andiamo a vedere. Poi verso la stazione. Poi verso la stazione. Bucalestre, il Parlamento di Bucalestre. Siamo già. Laszce già andiamo. Poi risp aggregate di Bancu. Siamo sé e e utiliare. Siamo in pietra. Siamo similiare. Siamo in prestazione. Siamo in prestazione. È per il Parlamento di Bancu. Mangiamo il cover dog Cibo tipico, locale Cora che ti sei preso, Merza? Gli tirerò lo spanache Voi invece Hot dog Cover dog Adesso vediamo com'è questa cosa E' buono, è buono Ci sta Cappuccino Adesso va bene Mi hai dato quello falso Quindi Sa prepara la babatura Fai e merda fai da nuca E' buono 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 Quanto pesa? Adesso lo mettiamo in sovraimpressione In sovraimpressione ci sarà il peso E niente, stiamo andando a vederlo E' buono Vediamo di scoprire qualcosa di più interessante E' buono però sul randonio ci saremmo sfondate del cibo, invece no, poi costa tutto normale, delusione. Tra un po' partiamo. Tra un po' partiamo, speriamo non sia a ritardo né qui né a verbo. Dicono che nevica. Dicono che nevica, quindi ci dovrebbero essere dei problemi tecnico-tattici, però penso che ce la faremo. Siamo qui a chiudere anche questo viaggio. È stato un bel viaggio, un testo ricco di emozioni. Sì, molto emozioni. Bello, tante esperienze, tante esperienze. È stata una delle sfide, per ora uno dei viaggi più insidiosi che questo canale ha visto. Tante cose belle, ma anche tante esperienze. Anche tante difficoltà che però forgiano, diciamo. Sono importanti, sono importanti. Quindi niente, Romagna ha consigliato, ma non Bucarest. Bucarest è una cacciata. Se non avete voglia di fare fatica, non è consigliato. No, esatto. O vi pigliate i pulmoni a 6, 100 euro, 10 giorni, ma se no, non è consigliata. Qui via col becco da Bucarest, un aeroporto di merda, a voi station.